L'inflazione ad aprile accelera in tutte le grandi città analizzate dall'Istat e raggiunge o supera il 2%, la soglia massima di riferimento per le politiche della Banca Centrale Europea in 11 casi su 29. Tra i capoluoghi delle regioni e delle province autonome, Bolzano, con più 2,6%, si conferma la città in cui i prezzi presentano gli incrementi più elevati, seguita da Venezia più 2,5%, Milano più 2,4% da più 1,8%. Vedono tassi superiori o uguali al 2%, anche Trento con il 2,3%, Firenze più 2,2%, Genova più 2,1%, Napoli e Bari entrambe più 2%. A Roma l'inflazione si ferma all'1,6%, così come a Torino, Aosta e Catanzaro, mentre agli ultimi posti ci sono Potenza più 1,4%, Bologna e Ancona più 1,2%. Nei comuni con più di 150.000 abitanti che non sono capoluoghi di regione, gli aumenti maggiori del 2% riguardano Parma con il più 2,5%, Messina più 2,4% e Livorno più 2,3%. Quelli più contenuti toccano invece Brescia, Reggio, Calabria, entrambi con più 1,3%. Brescia, Reggio, Calabria, entrambi con più 1,3%. Grazie.